Salve ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video in compagnia di CellularLine Allora, oggi ho da mostrarvi una cosa fighissima È uno speaker, due speaker in realtà E si chiama Concerto Concerto di AQL, ovvero Audio Quality Lab Che pensate è il nuovo brand sviluppato da CellularLine Per il mondo dell'audio e dell'ascolto musicale Il perché di questo nome l'ho scoperto utilizzandoli E lo scoprirete fra poco anche voi Detto questo andiamo a vedere subito di che si tratta Allora, beh, prima di tutto cominciamo con un unboxing Questi due sono gli speaker Cos'altro troviamo nella scatola? Oh ma che figata Troviamo perfino una custodia Con dentro le istruzioni e il cavo per la ricarica Bella, mi piace Ma adesso veniamo al dunque Che cos'ha di particolare questo speaker? Perché parlo al singolare? Beh, perché si può fare questo La particolarità di questo speaker è che può essere utilizzato in questo modo O anche in questo Beh, allora, prima di tutto la base qua sotto è calamitata Questo significa che possiamo posarle dove vogliamo Possiamo attaccarle al frigo Insomma, dove c'è più comodo per ascoltare la musica Ma questa è la cosa meno importante di questo speaker Perché quello che fa è pazzesco Mettiamo un po' di musica Vi faccio vedere Allora ragazzi La qualità del suono è veramente ottima Possiamo utilizzarli separatamente Oppure utilizzarli in questo modo Proprio come fosse un unico speaker Ma la figata pazzesca di questo coso è che Utilizzandolo separatamente Mettendone uno da una parte E un altro da un'altra parte della stanza Verrà un effetto stereo fighissimo È qualcosa, ragazzi, che non si può spiegare Si può provare solo di persona utilizzandolo Sembra di stare in un concerto Ed ecco appunto da cosa deriva il nome E devo dire che anche il design mi piace parecchio Questo fatto che sono trasparenti E si vede tutto dentro è bellissimo Pensate che la durata della batteria è di ben 8 ore E un'altra cosa fighissima che si può fare Io posso anche portarne uno al lavoro Ed utilizzarlo in casa In maniera completamente separata Proprio come se fossero due speaker diversi Beh, ragazzi, quindi che vi posso dire? Se siete alla ricerca di un regalo di Natale fantastico Questo Fa al caso vostro Anzi, puoi fare tipo due regali in uno Uno lo regali alla nonna Uno lo regali alla mamma Comunque sì, ragazzi Per questo appuntamento con CellularLine Può essere tutto Io vi invito a iscrivervi al canale A lasciare tanti mi piace E a lasciare tantissimi commenti Noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti